Una notte di paura a Saione, insomma, anche per voi? Una notte di interventi abbastanza, diciamo, irruenti. Ancora una notte movimentata nella quartiere di Saione, una notte di violenza finita alla pronto soccorso per un agente della polizia locale di Arezzo. L'allarme è scattato attorno alle 23 in via Libia. Al comando della polizia locale di Arezzo sono infatti arrivate numerose chiamate, tutte per segnalare un violento litigio in mezzo alla strada tra una coppia di fidanzati. Una pattuglia si è così precipitata sul posto, al loro arrivo gli agenti hanno tentato di riportare la calma. Hanno chiesto i documenti ad entrambi per identificarli, ma a quel punto l'uomo, un 28enne tunisino, con numerosi precedenti per furto e spaccio, ha dato in escandescenze con tanto di spinte spallate ai vigili. A richiesta dei documenti questo soggetto è andato, ha perso totalmente il controllo, è andato a colpire gli agenti provocando lesioni gravissime a uno di questi. I vigili nel tentativo di difendersi dall'aggressione hanno anche tirato fuori una bomboletta spray al peperoncino, ma tutto è risultato inutile. L'uomo a terra, prima di essere ammanettato, è infatti riuscito a colpire un agente con un calcio ben assestato, rompendogli il perone della gamba destra. È stato tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni sia al pubblico ufficiale che alla donna che era con lui. Questa mattina l'arresto del giovane è stato convalidato in tribunale ad Arezzo. L'uomo dovrà attendere in carcere l'udienza fissata per il prossimo 28 febbraio. Dopo gli accertamenti sanitari, invece, l'agente, un 45enne e aretino, ha ricevuto 36 giorni di prognosi.